Musica Questo convegno vuol rappresentare questa nuova impostazione che stiamo dando al settore del restauro con l'ingresso nel settore promozionale del Ministero dello Sviluppo Economico del Made in Italy quindi un confronto internazionale con i paesi invitati per poter collaborare meglio nel settore del restauro nei vari paesi L'Italia comincia ad essere molto presente nei restauri nel mondo qui abbiamo un esempio di un invito di 18 paesi in cui sono già iniziati e stanno per iniziare collaborazioni internazionali su fondi promozionali o su fondi della cooperazione allo sviluppo L'impegno di AstroRestauriCoreQuest è portare le nostre aziende nel mondo per essere sempre più presenti e crescere con dei restauri internazionali Come ha detto il nostro Presidente stamattina, fino ad oggi la presenza delle aziende nel mondo non è ancora così strutturata i grossi produttori sono già presenti, le nostre tecnologie sono già presenti vogliamo che anche i nostri restauratori, le nostre imprese e i nostri progettisti comincino ad essere protagonisti del panorama internazionale Stiamo lavorando a Cuba con cinque progetti italiani, abbiamo lavorato in Russia con due progetti stiamo aprendo l'area libanese siriana con un importante progetto di cooperazione di scuola del restauro che avrà una ricaduta territoriale in Siria stiamo lavorando con Uzbekistan, stiamo lavorando molto bene finalmente con gli Stati Uniti che sono un grande mercato di riferimento per noi e tanti altri paesi stanno arrivando e ci vedranno protagonisti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti